Il Senegal è un paese strategico all'interno del processo di Rabat, foro di dialogo regionale tra l'Unione Europea e i paesi dell'Africa occidentale, centrale e mediterranea per l'efficace gestione dei flussi migratori. Arriva a dirlo è stato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni durante una bilaterale con il suo omologo senegalese incontrato il 17 febbraio alla Farnesina. Oltre a collaborazione politica e cooperazione allo sviluppo, i due ministri hanno affrontato anche il tema delle crisi regionali in corso, del quadro di sicurezza in Libia, Mali e Nigeria e del rilevante ruolo di stabilizzazione svolto dal Senegal, insieme all'impegno nella prevenzione e nel contrasto all'epidemia del virus Ebola. Al termine dell'incontro i due omologhi hanno firmato un accordo di collaborazione in materia culturale, tecnica e scientifica che riveste una notevole importanza anche per la folta comunità senegalese in Italia. Grazie. Grazie.